Ciao a tutti ragazzi, sono Rush Pro Gamer e oggi siamo suonati in un nuovo video tutorial Oggi vi farò vedere come fare il bug, cioè il glitch per diventare invisibili Allora voi prima di tutto piazzate un veicolo dove volete Aspettate un attimo che c'è mio fratello che vuole un po' uccidermi Non voglio uccidermi Non vi dare allora Ok ragazzi, prima di tutto dovete prendere il loot perché se fate il bug non potete più prendere dopo il loot Quindi è meglio che lo prendete subito Allora ragazzi, voi dovete prendere il drone E appena arriva a zero il timer Voi dovete cliccare per salire sulla macchina E poi il bug è fatto Aspettate, lo faccio adesso Avete visto? Io per un piccolo momento ero salito Ero salito sulla macchina Allora, se vedete Se sulla mappa non vedo Vedo che vado avanti ma non vedo che giro lo schermo Vedete? Infatti perché sarò sempre qua Ok Ragazzi, mi fotevo non mi vede È là E quindi L'unico modo per uccidermi È uccidere Mentre io sono in macchina Perché lui vede che sono in macchina ancora Ecco, vedete? Lui pensa che io sono ancora qua Allora Metto il livello 5 Così almeno dopo non mi distrugge le cose Aspetta Ok Cioè non mi uccide? Facilmente Ma perché non riesco? Ah, ecco Ok Lui come vedete sarà Dove è lì? Ah, eccolo qua Quella è la vecchia macchina Ah, lì fai da quella parte infatti Cioè che sarebbe il mio account da iPad Lui non mi vede Fermo un attimo No, fermo Devo fare una cosa per il video Allora ragazzi Guardate No, non posso più conare Ok Oh Avete visto? Lui non mi vede Dove è lì? Giuro Eh, scusa Lì Ero un troll Per così Ti distraevi Ok ragazzi Spero che il video vi sia utile Cioè Non è proprio utile Basta che non lo fate Nelle partite pubbliche Perché Avete un grosso pericolo di ban Ok Ok Ragazzi Il mio fratello si è un po' arrabbiato Perché l'ho ucciso Allora Quindi Ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao